Perché Bitcoin è crollato e cosa dice Michael Saylor? Ti sei mai chiesto perché Bitcoin, nonostante il suo potenziale rivoluzionario, continua a essere così volatile? E soprattutto, come può Michael Saylor, miliardario e fervente sostenitore di Bitcoin, mantenere un'opinione così positiva anche durante un crollo di mercato? Se sei un investitore o un semplice appassionato di criptovalute, questa è una domanda che dovresti porti. Nel video di oggi, esploreremo l'opinione di Saylor sul recente crollo di Bitcoin e perché, secondo lui, tutto questo potrebbe essere stato pianificato. Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. Michael Saylor è apparso su CNBC recentemente, dove ha discusso le sue previsioni a lungo termine per Bitcoin. Secondo lui, un Bitcoin arriverà a valere 13 milioni di dollari per moneta nei prossimi 21 anni. Non è una previsione da poco, ma Saylor ha delle basi solide per questo numero. In questo momento, Bitcoin rappresenta circa lo 0,1% del capitale mondiale e Saylor crede che arriverà al 7%. Anche se questa previsione può sembrare audace, la storia delle criptovalute è piena di sorprese e Saylor non è mai stato timido nel fare affermazioni coraggiose. Tuttavia, le sue previsioni non si limitano a lungo termine. Ha anche fatto una previsione più a breve termine, affermando che entro 5 anni, cioè nel 2030, il valore di un Bitcoin potrebbe raggiungere 3 milioni di dollari. Ma perché un tale ottimismo quando, al momento, Bitcoin sembra più vulnerabile che mai? La risposta di Saylor è semplice. Bitcoin è denaro forte, veloce e intelligente. Negli ultimi otto giorni, abbiamo visto enormi deflussi dai Bitcoin-ETF. 1,2 miliardi di dollari sono stati prelevati, causando un impatto evidente sul prezzo di Bitcoin. Saylor riconosce che gli ETF hanno creato domanda aggiuntiva, ma sottolinea che Bitcoin, essendo una delle valute più liquide e globali al mondo, è estremamente volatile. In altre parole, questo tipo di comportamento è normale per un mercato così nuovo e reattivo. È importante tenere presente che Bitcoin è un asset che può essere scambiato 24-7, rendendolo unico nel panorama finanziario globale. Un altro punto interessante è che Bitcoin, a differenza degli immobili o di altri asset tradizionali, può essere venduto rapidamente in situazioni di panico. Non puoi vendere un appartamento a New York in pochi minuti, ma puoi sicuramente vendere Bitcoin in pochi secondi. Questa capacità di essere denaro liquido rende Bitcoin un'opzione molto attraente per i trader che cercano volatilità e opportunità di arbitraggio a breve termine. Una delle questioni più discusse riguardo Bitcoin è se possa essere considerato un asset non correlato. In teoria, Bitcoin dovrebbe comportarsi come l'oro digitale, fornendo una riserva di valore sicura in tempi di crisi. Tuttavia, la realtà è spesso diversa. Secondo Saylor, la correlazione di Bitcoin con altri mercati può variare, ma nel lungo periodo Bitcoin continuerà a crescere. La volatilità, dice, non è un difetto, ma una caratteristica intrinseca di questo asset. In effetti, Bitcoin è cresciuto del 44% all'anno negli ultimi anni, con una volatilità del 40-50%. Questo significa che, nel lungo periodo, l'investimento in Bitcoin potrebbe portare a rendimenti significativi per chi è disposto a sopportare le oscillazioni a breve termine. Michael Saylor prevede che, con il tempo, la volatilità di Bitcoin scenderà gradualmente, arrivando al 25%, e offrirà rendimenti superiori a quelli dell'S&P 500. Il recente crollo di Bitcoin, con una perdita del 32%, è stato un duro colpo per molti investitori, ma secondo Saylor, potrebbe essere stato pianificato. A lungo termine, la previsione è che Bitcoin diventerà un asset sempre più stabile e sicuro. Tuttavia, nel breve termine, sarà soggetto a manipolazioni e movimenti di mercato imprevedibili, in particolare da parte di trader che sfruttano la sua elevata liquidità e volatilità. Saylor sostiene che uno dei fattori chiave per la futura crescita di Bitcoin sarà la custodia da parte delle grandi banche. Attualmente, stiamo aspettando che le banche più importanti inizino a custodire Bitcoin in modo simile agli asset tradizionali. Quando ciò accadrà, secondo Saylor, Bitcoin farà un altro grande salto in avanti. È un processo lento, ma inevitabile, e rappresenta un importante passo avanti nella rivoluzione finanziaria del Web3. Oltre a Bitcoin, il mondo delle criptovalute sta evolvendo rapidamente grazie a progetti come Ando e Propri, che stanno aprendo la strada alla tokenizzazione di asset tradizionali. Questi altcoins stanno facendo grandi progressi, lavorando con istituzioni finanziarie come BlackRock per portare più asset sulla blockchain. Ando, in particolare, si distingue per la sua capacità di aiutare gli asset manager tradizionali a navigare nel mondo delle criptovalute, offrendo soluzioni innovative per la distribuzione e la custodia di asset digitali. Propri, invece, è leader nella tokenizzazione immobiliare e sta diventando uno dei giocatori dominanti su Ethereum, sfruttando la scalabilità delle catene Layer 2 come base, la piattaforma di Coinbase. La tokenizzazione degli immobili rappresenta un enorme potenziale per il futuro del mercato immobiliare, rendendo più facile e veloce la compravendita di proprietà attraverso contratti intelligenti e criptovalute. In conclusione, Michael Saylor rimane fermo nelle sue previsioni ottimistiche su Bitcoin. Nonostante la volatilità e i crolli temporanei, Saylor crede che Bitcoin sia destinato a diventare una parte fondamentale del sistema finanziario globale. Con una crescita prevista del 44% annuo e una futura stabilità, Bitcoin potrebbe diventare un asset molto più simile all'S&P 500, ma con rendimenti superiori. Grazie per aver seguito fino a qui. Ricorda, nel lungo termine, Bitcoin cresce del 44% ogni anno. Detto questo, grazie per averci seguito fino a questo punto. Non sprecare il prossimo volo cripto. Grazie per essere stati con noi. Se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo cripto e non sprecarvi una criptoavventura, schiacciate quel pulsante seguimi e attivate la campanella. Pronti a partire? Allora ci vediamo nel prossimo video.